Oggi siamo con Fulvia degli Innocenti, direttrice della collana edita da noi Paolì nel parco delle storie e con il parco apriamo un mondo veramente magico. Fulvia, ce ne puoi parlare? Allora il parco è un luogo, un luogo fatto di libri e fatto di storie. L'ho immaginato proprio come un parco per togliere all'idea del libro quella della polvere, della fatica, ma il libro è un luogo di divertimento anche, di coinvolgimento emotivo e le nostre storie sia dal punto di vista della narrazione che delle illustrazioni vogliono comunque comunicare entusiasmo, coinvolgimento, emozione. Il parco esiste da parecchi anni e quindi si è allargato con il tempo e offre molte proposte che variano a seconda delle fasce di età. Abbiamo i libri per le prime letture per i bambini ancora piccoli che i libri se li fanno leggere, che amano guardare le grandi e belle illustrazioni e che poi cominciano ad approcciare la lettura in modo autonomo. Infatti le prime letture sono per esempio questo, i libri vanno mostrati, vanno fatti vedere, hanno questa formulazione. Hanno due livelli di lettura, uno molto semplice, essenziale in maiuscolo e invece uno un pochino più disteso e voluto che è in stampatello minuscolo, con grandi illustrazioni. Poi si sale, si sale di età, si arriva alla fascia dei bambini dai 7-8 anni con storie che cercano di far leva sempre più sulla fantasia, sull'immaginazione, sul coinvolgimento. Qui abbiamo un pentolone di una zuppa fatata, zuppa stregata attraverso la quale però noi vogliamo raccontare anche dei contenuti molto interessanti su cui poter lavorare, perché non dimentichiamoci che il parco va in mano ai bambini ma è un ottimo strumento da veicolare nelle scuole attraverso la mediazione degli insegnanti per poter lavorare sulle storie e riflettere su tutta una serie di tematiche. In questo caso per esempio si riflette sull'agricoltura biologica, sulla stagionalità della frutta e della verdura e anche un incoraggiamento a mangiare bene attraverso le vicende magiche di un gruppo di fate e un gruppo di streghe. Poi si sale di età e si va a chi ormai la lettura, la manovra, la maneggia in modo autonomo, quindi storie un po' meno legate al mondo fantastico, più alla contemporaneità, più a tematiche anche sociali e poi facciamo il balzo in avanti, arriviamo alle scuole medie, fino adesso siamo state nelle scuole elementari, con temi anche importanti e anche molto volte temi legati alla storia. Per esempio abbiamo fatto una serie di volumi dedicati a momenti particolari della storia italiana. L'Unità d'Italia, quindi 1861, un'avventura italiana e dalla parola avventura capiamo che noi trattiamo la storia in modo coinvolgente, abbiamo un ragazzino che va al seguito di Garibaldi nella spedizione dei Mille e poi risale l'Italia fino ad arrivare a Milano sempre seguendo le vicende dei Garibaldini. Andando avanti nella storia, arriviamo alla prima guerra mondiale con una rosa in trincea, anche in questo caso siamo riusciti a mandare al fronte un ragazzo molto giovane con un escamotage, lui si arruola al posto del fratello che invece ha già una famiglia, lui è siciliano, infatti l'autrice è siciliana e ha immaginato la prima guerra mondiale attraverso le vicende di un soldato che parte dalla Sicilia e si trova sul fronte in Trentino. Un romanzo anche con tratti abbastanza duri ma sempre attraverso vicende, anche piccole vicende di sentimenti. La rosa è quella che una fidanzatina gli ha affidato affinché la porti sul cuore e che possa proteggerlo dalla guerra. Fulvia, qual è la filosofia che anima questa collana? Perché con questa collana noi copriamo veramente una grande fascia d'età. Sì, noi partiamo dagli ultimi anni della scuola materna, comunque da quando sono in grado di ascoltare storie un pochino più lunghe, fino ad arrivare alla terza media. Li seguiamo passo passo, li affianchiamo in questa avventura che è la lettura e cerchiamo di coinvolgerli con temi vicini a loro ma che gli facciano fare anche un passo in più, che gli facciano riflettere. Per esempio, come Conchiglie sulla spiaggia, è una storia molto semplice che mescola la poesia, infatti abbiamo delle poesie, alla narrazione di una ragazzina che ama i versi della poesia, ha un rapporto speciale con un maestro ma che ama anche mettere il naso nelle faccende un po' complicate e si imbatte in alcuni bambini che sono chiusi in un capannone e costretti a lavorare. Quindi si parla di lavoro minorile, ma lavoro minorile in modo lieve rivolto a bambini di 9-10 anni. Fulvia, il parco non si muove solo con la fantasia, il parco mette piedi e si muove veramente. Ci spieghi come? Il parco è una serie di libri. I libri li vediamo appoggiati in uno scaffale in libreria dove è il loro luogo elettivo, da dove però loro partono. Partono per raggiungere i lettori laddove si trovano, nelle scuole primariamente, nei festival, nelle biblioteche e nelle librerie per incontrare i ragazzi attraverso l'opera degli autori che sono tutti autori italiani, come gli illustratori sono italiani, e incontrano i ragazzi in laboratorio di lettura dove c'è il classico incontro con l'autore, c'è sempre questa magia di vedere in carne ed ossa un nome che prima è stampigliato su una copertina e poi diventa una persona, una persona a cui fare domande, domande sulla sua vita, sul suo lavoro e sulle tematiche dei libri che ha scritto. Un'altra cosa che è importante per questi libri è che hanno una formula anche abbastanza innovativa, soprattutto negli ultimi anni abbiamo deciso di illustrarli, perché l'illustrazione è sempre importante, i due linguaggi, quello visivo e quello della narrazione, sono paralleli, ma invece delle illustrazioni classiche abbiamo introdotto le tavole a fumetto. Quindi la lettura viene interrotta da tavole a fumetto che riraccontano attraverso le vignette parte della storia e aggiungono qualcosa in più al racconto. In questo caso stiamo parlando di un libro che tratta un tema molto importante e molto delicato, che è quello della criminalità minorile e della camorra, il libro si chiama Un ribelle a Scampia ed è scritto da un'autrice campana di Salerno e fa vedere come, ispirandosi a una storia vera, anche se sembra una fiaba, come un ragazzino che viene avvicinato dalla criminalità quando è ancora molto giovane, poi trovi il suo riscatto, la forza di uscire da questo mondo attraverso i libri. Lui si innamora delle storie e dei libri e non solo diventa un lettore, ma diventa lui stesso un diffusore di letture attraverso un club della lettura che organizza proprio nel suo quartiere, che è quello di Scampia, ogni giovedì coinvolgendo anche il resto della popolazione. Noi ringraziamo Fulvia per questa carrellata veloce ma appassionata e per averci aperto il parco, per averci invitato tutti a entrare e noi da Paoline invitiamo insegnanti, genitori, nonni, educatori e i bambini a entrare in questo parco e a entrare nel mondo della fantasia che ci propone. Grazie a tutti. Grazie a tutti.